Ci tenevo particolarmente a testimoniare la vicinanza dello Stato, del Governo, ai cittadini di questa Regione, alle istituzioni tutte, rispetto a questa battaglia nuova che è in corso. Il lavoro di questi giorni in Umbria è particolarmente prezioso, perché ci consente di capire meglio che cosa sono le varianti, dove ci possono portare, ci consente di approfondire una sfida che oggi è qui in Umbria, ma che potrebbe presto essere una sfida di tutto il nostro Paese. Io penso che sia particolarmente importante reagire con fermezza. Sappiamo che quando si fanno ordinanze, quando si determinano zone rosse, si chiedono sacrifici alle persone, ma sono sacrifici indispensabili se vogliamo riportare la curva sotto controllo e se vogliamo più velocemente tornare alla nostra vita tradizionale. Questo ci consente di ridurre i decessi, di ridurre la pressione sulle terapie intensive. Ed è stato l'Istituto Superiore di Sanità con una sua relazione ad indicare questa strada. Il Governo italiano, la Protezione Civile saranno a fianco alla comunità tutta dell'Umbria. Proveremo a offrire, come stiamo facendo in queste ore, medici, infermieri, personale, per dare una mano al lavoro straordinario che si sta facendo sul territorio, che i medici, gli infermieri, i professionisti sanitari che abbiamo voluto incontrare e salutare durante questa veloce visita stanno facendo. Le istituzioni devono lavorare insieme. È una sfida non facile, ma dobbiamo essere ottimisti perché abbiamo finalmente nuove armi. C'è il vaccino, arrivano gli anticorpi monoclonali, abbiamo gli strumenti per poter fronteggiare questo virus e per vincere questa battaglia e sono convinto che insieme potremo giocare questa partita a testa alta e provare a contenere questo virus e finalmente tornare ad una vita diversa. Devo dire che è stato un incontro molto proficuo. Il Ministro, come aveva detto, ci ha venuto a trovare. è stata una visita sicuramente anche così veloce, anche un po' inaspettata, ma io avevo sempre avuto un grande colloquio con lui nei giorni passati, quindi sono molto felice. Ci è venuto a dire che ha condiviso insieme a me tutte le iniziative prese e che il lavoro che ha fatto l'Umbria in questa fase di individuazione delle varianti è stato importantissimo non solo per la nostra regione, ma evidentemente per l'intero paese. Quindi ha garantito collaborazione massima, disponibilità su tutto, compreso sulle mie richieste di vaccini e anche di ristori, come giusto che sia, per queste zone e questo nostro contenimento. È disponibile a continuare a lavorare insieme nell'interesse generale, non solo della comunità Umbria, ma anche nazionale.